ciao sono marco gambella operatori olistico e autore del sito trattamento emozionale punto it oggi trattiamo l'autostima il significato dell'autostima e come l'autostima possa essere bloccata nel sistema emozionale l'autostima è un sentimento di fiducia nei confronti di se stessi che dona una certa sicurezza percettiva alla persona e che lo rende in grado di poter rispettare i percorsi scelti e di tenere la strada che ha debitamente scelto la mancanza di autostima è invece una sensazione quasi impercettibile che priva la persona di fiducia in se stesso questo blocco può confondere la persona la quale scambia la bassa autostima che porta dietro con un suo lato del carattere si convince infatti che è un aspetto del carattere e non capisce che è controvertibile e risolvibile prima di parlare del meridiano specifico dell'autostima è certamente necessario sapere che cosa è un meridiano o cosa sono i meridiani i meridiani sono i canali del campo elettromagnetico attraverso i quali scorre l'energia emozionale o elettromagnetica del corpo potremmo paragonare i meridiani a delle corde di chitarra è noto infatti che quando pizzichiamo delle corde la frequenza del suono passa attraverso la corda e viene poi tradotta dalla cassa in quanto onda e quindi amplificata in individui che stanno bene questa energia scorrerà in modo completamente libero la persona risulterà priva di qualsiasi pensiero squilibrato di blocco fisico e riuscirà a esprimere le sue emozioni in modo libero e sereno un fattore importante per raggiungere questo stato di equilibrio e di benessere sarà quello di conoscere se stessi quindi il proprio aspetto fisico il proprio aspetto animico quindi emozionale e il proprio aspetto spirituale riprendendo quindi l'esempio della chitarra se la chitarra è lo strumento noi ovviamente saremo i chitarristi ed è difficile che un chitarrista che non è preparato possa esprimersi in modo completamente libero attraverso lo strumento e quindi la musica al contrario un chitarrista preparato che ha studiato potrà esprimersi in modo completamente libero e sereno il meridiano dell'autostima viene chiamato nella medicina tradizionale cinese il triplice riscaldatore convertito poi nel settuplo riscaldatore nel metodo butto che si accorge che l'azione di questo meridiano passa attraverso i sette segmenti del corpo e non attraverso i tre come la medicina tradizionale cinese ha pensato il settuplo riscaldatore gestisce il sistema linfatico dona cioè quell'energia elettromagnetica che consente al corpo di potersi difendere dagli attacchi virali o batterici è noto infatti che le persone deboli cioè le persone che soffrono di autostima sono più esposte a febbre oppure attacchi virali nel blocco dell'autostima la persona è convinta di essere invisibile di non poter avere le stesse potenzialità che tutti gli altri hanno di affrontare un percorso scelto e soprattutto di non disporre delle stesse energie delle stesse qualità e delle stesse forze delle quali tutti dispongono per poter affrontare i percorsi scelti rinunciano quindi alla maggior parte dei percorsi per due motivi uno è perché non credono in se stessi l'altro è perché si sottovalutano rispetto alle qualità degli altri peraltro il blocco si presenta completamente neutrale impercettibile la persona è cortese gentile e tutto questo perché vuole sottolineare che queste qualità sono dell'interlocutore ma non dalla persona che soffre di bassa autostima quindi emerge come impulso impercettibile si nasconde in angoli reconditi dell'anima e soprattutto la persona potrebbe negarla abbiamo quindi capito che un segnale che il conflitto è attivo sono i paragoni quindi le persone continuano a parlare degli altri sentenziare quello che fanno e ripetere che loro non avrebbero agito in quel modo possiamo dire quindi che ogni volta che abbiamo il sospetto che qualcuno sia più bravo di noi ogni volta che pensiamo di rinunciare a un percorso a una disciplina a un'azione ogni volta che motiviamo le nostre azioni dicendo l'ha fatto anche lui l'ha fatto anche lei ogni volta che ci sentiamo inferiori per la posizione sociale o la etichetta ogni volta che scatta nella mente un meccanismo che ci porterà a rinunciare perché non saremo mai i primi stiamo rispondendo ad una bassa autostima e quindi a un conflitto ciò significa che la persona si è condannata al paragone nei confronti degli altri la risposta impulsiva è quindi quella di adattarsi alle situazioni e di non lottare per raggiungere un obiettivo preposto e quindi assumersi l'onere di affrontare un percorso per superare una bassa autostima sarà utile utilizzare l'analisi percettiva per regredire nel passato e capire quando il conflitto è stato somatizzato eseguire poi il fill e sciogliere la brutta sensazione somatizzata nell'indirizzo specifico del corpo e poi un lavaggio emozionale energetico per poter ripulire tutto il sistema emozionale dai vari conflitti legati all'autostima ma soprattutto esercitare un processo dell'aggiornamento nel quale smettere di paragonarsi agli altri smettere di essere i primi della classe e lavorare sull'unicità sulla autostima e quindi offrirsi in modo semplice originale e consapevole io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento per il prossimo video